Da 30 anni, Omega è il magazzino dell'elettronica a Verona nel proporre i migliori marchi del mercato dedicato ai professionisti, le imprese, le aziende e le famiglie. Continui corsi di formazione rendono il personale dello staff qualificato nel rispondere a qualsiasi esigenza nell'ambito dei componenti elettronici ed elettromeccanici, apparecchiature elettroniche, accessori PC e reti dati, video sorveglianza e sicurezza, sonorizzazione ambiente, nuove tecnologie di illuminazione LED, piccoli impianti fotovoltaici oltre a tv e audiovisivi e il più importante assortimento di decoder digitali terrestri e satellitari sul territorio. È arrivato il digitale e in che modo Omega assiste la sua clientela? Le problematiche sono che la copertura del segnale e i sistemi non sono ancora a puntino e quindi abbiamo difficoltà a sistemare gli impianti e farli andare a regime fin tanto che il sistema non si sarà stabilizzato e questo ci sta creando delle difficoltà. Nel frantempo quindi cosa ci resta da fare? Beh, bisogna portare molta pazienza, affidarsi sicuramente a tecnici esperti e qualificati perché il digitale effettivamente è una bestia nera. Chi non è competente, chi non è attrezzato, chi non sta approfondendo quelle che sono le problematiche che evidentemente ci sono, avrà sicuramente difficoltà a portare a termine con successo gli adeguamenti degli impianti. La materia è nuova, un po' per tutti, l'esperienza ci aiuta, però anche noi che siamo del settore stiamo, diciamo così, operando non per tentativi ma perlomeno stiamo sperimentando varie soluzioni. Le soluzioni ideali ancora non è state individuate ma presto lo sarà. E proprio con l'avvento del digitale Omega è in prima linea con operatori del settore nel fronteggiare le numerose richieste di assistenza. Omega è anche centro assistenza Sky e vi aspetta in via Enrico Fermi a 100 metri dal casello di Verona Sud e a 300 metri dall'uscita della tangenziale.